siamo qui davanti al carcere delle vallette con guido che è uno storico esponente del movimento notav guido puoi farci un breve scursus sulla storia del movimento che prima non erano tav si chiamava habitat se riesce a dirci qualcosa di sintetico sì all'inizio degli anni 90 ma i primissimi anni 90 si era formato un comitato che appunto aveva nome habitat quello che ha fatto le prime mosse per contrastare il progetto della torino lione e poi già nel pochi anni dopo sarà formato il movimento notav la bandiera questa qua è nata a genova 2001 genova quando poi ci sono stati gli sconti e quindi però già c'erano state manifestazioni nelle prime 95 96 sono in quegli anni e per contrastare questo progetto che insomma è sempre stata una cosa inutile prima di tutto e poi devastante per una valle così così stretta e quindi il all'inizio quando le contestazioni erano sui pronunciamenti sui di delle autorità dei promotori e alle prime avvisaglie di approvazione del progetto da parte del governo si è cominciato a muovere ma era praticamente un movimento d'opinione contro un progetto poi quando hanno cominciato a muoversi concretamente cioè hanno cercato di fare i primi sondaggi e mettere il primo cantiere quindi nel 2005 2004 2005 e il movimento si è proprio manifestato come un movimento che si opponeva non più soltanto movimento d'opinione ma un movimento di difesa del territorio e quindi le prime i primi sondaggi che intanto di fare nel 2004 li abbiamo bloccati con la presenza nostra sapevamo che avrebbero fatto il non so un sondaggio a Borgone quel mattino alle 5 alle 6 di mattina c'erano 400 300 persone sul posto dove dovevano fare il sondaggio quindi lì loro non hanno mai cercato lo scontro hanno visto che e poi a nel 2005 ci sono stati fatti di venasio quando hanno tentato di impiantare prima per un sondaggio c'è stato il primo vero scontro con la polizia nel senso che loro hanno cercato di raggiungere un posto in montagna e noi ci siamo andati già dalla sera prima e quindi si sono trovati davanti centinaia di persone su una strada strettissima dove loro avevano una colonna di 30 40 mezzi che però non potevano ammettersi uno di fianco all'altro quindi erano in colonna e li abbiamo tenuti fermi tutto il giorno e quindi quel sondaggio lì poi sono andati sulla notte successiva di nascosto comunque e poi c'è stato venaus lo scontro dove noi avevamo costruito un presidio loro hanno cercato di aprire il cantiere impiantare il cantiere e sono arrivati di notte ci hanno cacciati quei pochi che eravamo lì ci hanno pure manganellati e menati un po e tre giorni dopo c'è stato l'otto dicembre del 2006 quando un corteo di decine di migliaia di persone non sono riusciti a fermarci lungo la strada la gente scesa dai sentieri siamo arrivati giù in migliaia abbiamo spazzato via quello che la recinzione quello che avevano messo su dopodiché hanno deciso di soprassedere trovare un'altra soluzione e quindi per tre o quattro anni le cose sono state ferme e poi hanno deciso di il cantiere dove quello di venaus doveva essere un posto dove passava anche il treno ma dovevano fare un tunnel di servizio e hanno cercato di farli un posto militarmente più difendibile diciamo quindi hanno scelto il il sito di chiomonte dove c'è una valletta chiusa e dove non ci puoi arrivare solo o con l'autostrada o da due stradine e quindi anche lì noi abbiamo tentato di fermarli è successo quello che è successo poi nel 2011 con la libera repubblica della maddalena noi abbiamo occupato l'area per oltre un mese e mezzo con una cosa partecipatissima una cosa bellissima di 30 giorni con sempre centinaia di persone presenti abbiamo costruito barricate e via discorrendo poi sono arrivati al 27 giugno in mille 1500 poliziotti con ruspe escavatori eccetera e ci hanno diciamo cacciati e poi ci sono fortificati abbiamo fatto un tentativo di riprenderci l'area una settimana dopo insomma il 3 luglio e ci sono stati scontri dal mattino alla sera quel giorno hanno lanciato 4500 4600 lacrimogeni risulta dai bollettini che anonimus è riuscito a pescare come pensate in un giorno solo in un'area concentrata 4500 lacrimogeni non sono poco e quindi non siamo riusciti a riprenderla ed allora continua la resistenza per insomma rendergli la vita difficile adesso hanno aperto il cantiere a san didero non hanno aperto il cantiere ha preso possesso del terreno lo hanno circondato con gersi filo spinato telecamere eccetera e dentro ci sono fissi normalmente una cinquantina almeno di o poliziotti o carabinieri e via discorrendo per quattro turni al giorno tutti i giorni tutti i santi giorni dell'anno il problema è che qua in valle se il progetto andrà avanti dovranno oprire altri cinque sei cantieri lungo tutta la valle quindi da sa a distanza di pochi chilometri uno dall'altro uno salve tra poi c'è quello di chiomonte che già c'è poi dovrebbero aprire un altro susa un altro bussoleno sandidea l'orange aperto un altro davigliana e devono sono tutti i cantieri da 70 mila metri scusa sono addirittura 300 mila metri quadri quindi un cantiere enorme che tiene tutta la valle e quindi il quello che è successo in questi giorni è un altro atto di tentativo di demolire il movimento colpendo colpendo una parte una componente o alcuni che loro considerano i capi ma il problema per loro è che il nostro movimento popolare ed è anche abbastanza trasversale sia per età che per centro sociale che per anche composizione ideologica ci sono dagli anarchici a pacifisti a adesso i giovani di friday eccetera quindi è anche abbastanza complesso colpire un pezzo credendo di aver decapitato il movimento perché come dire colpisci solo un pezzettino e il resto si si ricompone fino adesso siamo riusciti a farlo e neanche il tentativo che hanno tentato adesso di dividere per buoni e cattivi perché nella lettura di di quello che sta succedendo in questi giorni gli articoli o le veline che hanno passato alla questura c'è sempre la divisione tra se in valle ci sono i valigiani che sono pacifici protestano ma insomma e poi cattivi che arrivano dai centri sociali e noi questa cosa l'abbiamo sempre respinta anche in modo evidente e plateale non so dopo i fatti della maddalena del 2011 una settimana dopo c'era di c'era già questa montatura impostata dalla polizia ma presa subito in braccio dai giornali perché gli piaceva come discorso e noi abbiamo fatto una manifestazione a torino una settimana dopo con il lo striscione d'apertura che diceva siamo tutti black bloc tutti e quindi non ci lasciamo dividere così siamo tutti compatti e continuiamo a difenderci adesso siamo sulla difensiva dobbiamo difenderci da questo attacco della della magistratura che a torino è sempre stata abbastanza in linea con i con chi propone l'opera e la vuol fare infatti hanno sempre beccato cercato di colpire noi e mai neanche quando la mafia lavorava dentro al cantiere e si è saputo su quel cantiere non sono intervenuti cioè ha fatto un processo per mafia a degli imprenditori che stavano lavorando nel cantiere ed è venuto fuori dalle intercettazioni dei ross che questi lavoravano dentro coperti da chi chi dava l'appalto e la magistratura su quel cantiere non è intervenuta cioè hanno condannato un imprenditore per traffici con la con l'andrangheta però per altre cose non su quel per i lavori fatti in quel cantiere di chiomonte e questo è venuto fuori durante il processo in cui eravamo imputati in 50 per i fatti del del 27 giugno e 3 luglio del 2011 quindi insomma questa è la magistratura che aveva davanti poi speriamo che sta roba si sgonfi perché adesso ci sono accuse anche di associazione sovversiva l'articolo 270 del codice penale per parecchi di quelli che sono stati colpiti da misure e bisogna vedere poi se cioè questa è la proposta del del pm bisogna vedere poi se il gip e i giudici accetteranno questa impostazione può anche darsi che no perché qualche anno fa c'era stato un processo con accusa di terrorismo a quattro ragazzi che avevano tirato avevano bruciato un compressore dentro al cantiere e poi l'accusa di terrorismo è caduta il giudice non la presa in considerazione perché non era cioè non aveva senso grazie prego